Della degustazione di Slow Wine 2025 possiamo essere soddisfatti perché ci saranno 485 cantine presenti, tra l'altro il Piemonte è presente in massa perché sono altre 77-80 cantine piemontesi. È una grande festa del vino italiano, è il vino buono, pulito e giusto secondo Slow Food. Ciao, sono Alberto Gero e faccio vino a Santo Stefano Reo dal 2010 e qui come vino premiato c'è Anime 22 che è la vigna più, sotto certi punti di vista, bella che lavora, una vigna molto vecchia. Questo vino qua è una macerazione classica da grande nebbiolo e poi un anno di affinamento in bottega, non bello. La nostra azienda è stato premiato, dove nasciamo come produzione di oggetto e poi negli anni abbiamo deciso di investire nella produzione dell'Alta Raga e nella produzione di Vero, che è stato premiato, è il Vero, lo salsevo in Vero 20 che fa un affinamento in legno, circa 2 anni e mezzo e poi comunque un po' di incevento. Ci troviamo a Rodengo, per me sono le due denominazioni del valore del Barbaresco. Un po', noi e la mia famiglia siamo un po' dei sognatori, dei conservatori ma anche innovatori, che comunque abbiamo fatto in molti entro 5 versioni diverse e siamo premiati da Top Wine, il nostro portico piano da Viterboni. Questo è un grande riconoscimento e di energia per continuare a produrre del centro.